Ciao a tutti! Oggi prepareremo i tartufini di panettone al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono panettone taglia da pezzetti, cacao amaro, latte, burro, caffè zuccherato e vanillina e per decorare cocco grattugiato scaglie di cioccolato. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il panettone. Lo facciamo tritare 10 secondi a velocità 10 spadolando. Aggiungere il caffè, il burro, il kagamaro, il latte, e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti in modalità spiga. Il composto è pronto, trasferirlo in una ciotola e riporre in frigo per almeno un'ora prima di formare i tartufini. Abbiamo ripreso il composto dal frigo, adesso faremo delle palline che le passeremo nel cocco o nella granella di cioccolato. e continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Tartufini di panettone al caffè. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!